Evgeni Prigojin è morto davvero? Ecco le prime immagini dell'aereo privato sul quale si sarebbe trovato il capo della Wagner, l'organizzazione di mercenari fondamentale per lo sforzo bellico russo in Ucraina e recentemente in Africa. Il jet si è schiantato al suolo nella regione di Tver, in Russia. L'ente regolatore russo dell'aviazione ha fatto sapere che non ci sono sopravvissuti. In una nota l'agenzia riferisce che è stata avviata un'indagine sullo schianto dell'aereo. Nell'elenco dei passeggeri, noto come manifesto di bordo, risulta il nome di Prigojin. Il canale Telegram Grey Zone, intanto legato al gruppo Wagner, afferma che il jet è stato abbattuto dalla contraerea russa. Dai rottami del jet di Prigojin sono stati già recuperati dei corpi. Mentre l'aereo si schiantava al suolo, Vladimir Putin era intento a premiare dei militari definendoli eroi russi.